Torna all'incubo dei ladri nelle campagne di Cerveteri nella zona di Zambra come due anni fa quando proprio nel mese di agosto di cui si riferiscono le immagini molte abitazioni furono visitate dai malviventi. Nei giorni scorsi anche in mattinata si sono introdotti nelle case alcuni sconosciuti tra via dei Montarozzi e via Fosso della Cerqueta mentre la scorsa notte intorno alle 23.30 un'abitazione è stata visitata dai ladri che si sono poi dileguati per i campi che non essendo illuminati ne favoriscono il lavoro furtivo. I cittadini raggruppati in un comitato hanno chiesto al comune almeno l'installazione di due telecamere a carico degli stessi e poi più sorveglianza sull'area molto vasta nella zona di Zambra ed intorni che ha bisogno di controlli per evitare in questi giorni visto che molte famiglie partono in vacanza spiacevoli sorprese. Grazie per la visione!